Tragedie nella notte tra Pesaro e Fano, uomo investito sui binari della ferrovia Controlli della polizia stradale sul territorio, 933 multe nell'ultima settimana Meno due giorni alle regionali, Sant'Angelo Invado e Isola del Piano scelgono il sindaco Piazza del Popolo ospita il Classic Tour, 24 auto d'epoca sfilano in centro città Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del digitale Terrestre Buonasera anche a tutti gli ascoltatori che ci seguono in diretta dalla nostra pagina Facebook o sul sito www.rossinitv.it Subito iniziamo con la cronaca e con un fatto tragico che si è consumato questa notte intorno alle 3 Un uomo che si presume essere di mezza età, di cui però non sono ancora state definite le generalità esatte è deceduto dopo essere stato investito da un treno nel tratto ferroviario che collega Pesaro e Fano all'altezza dei camping di Sottomonte Sul posto è intervenuta la polizia per iniziare tutte le indagini del caso Fortemente rallentata per tutta la mattinata la circolazione ferroviaria che dopo essere stata interrotta per eseguire tutti gli accertamenti del caso è ripresa a partire dalle 6 Per sopperire ai disagi dei pendolari in transito tra Pesaro e Ancona è stato allestito un servizio sostitutivo di bus navetta E ora ci spostiamo a Fano ma continuiamo con la cronaca perché continua l'attività della Polizia di Stato impegnata ad effettuare servizi straordinari di vigilanza mirati alla prevenzione dell'abuso di alcol e del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti in ambito giovanile Nel corso dei controlli effettuati sono stati identificati numerosi giovani tra cui 5 minorenni trovati in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana per un totale di circa 40 grammi Sanzioni previste anche per due locali In uno di questi gli agenti hanno sorpreso 4 minorenni a fumare tabacco in compagnia di alcuni maggiorenni nonostante il divieto di fumo Per tale motivo al titolare è stata applicata una sanzione amministrativa con segnalazione alla prefettura e la sottoscritta chiusura temporanea dell'esercizio E ancora la cronaca, torniamo però ora a Pesero perché si è registrato questa notte un incidente stradale lungo Strada dei Colli coinvolti una moto a bordo della quale viaggiava Simone Mattioli, presidente del Pesero Rugby insieme al figlio sedicenne e un'autovettura all'interno della quale si trovavano due ragazze Stando alla ricostruzione della caduta l'automobile avrebbe realizzato una svolta molto rapida e senza preavviso che avrebbe tagliato la strada alla motocicletta che stava viaggiando sulla corsia opposta Mattioli e il figlio sono caduti a terra dopo lo schianto con conseguenti fratture a qualche arto mentre le due ragazze che si trovavano all'interno della macchina sono rimaste praticamente illese grazie all'apertura degli airbag Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze che hanno poi condotto in ospedale i due feriti per cure e ulteriori accertamenti E sono state 933 le sanzioni che la polizia stradale ha elevato nell'ultima settimana sul territorio pesarese Le cause principali restano l'utilizzo dei telefoni alla guida e il non rispetto delle misure di sicurezza e dei limiti di velocità Vediamo il servizio In occasione della settimana europea della sicurezza stradale in corso dal 14 al 20 settembre la sezione di polizia stradale di Pesaro ha predisposto sull'intero territorio provinciale servizi utili per ridurre le principali cause di incidentalità come ad esempio l'elevata velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l'uso di telefoni cellulari alla guida che ad oggi rappresenta ancora la principale fonte di distrazione per i conducenti I dati provinciali evidenziano come dall'inizio del 2020, senza dimenticare il periodo di lockdown di circa 3 mesi che ha drasticamente ridotto la circolazione dei mezzi, si siano verificati ben 351 incidenti Di questi, 4 hanno purtroppo avuto esito mortale, mentre altri 96 hanno registrato feriti Il comando provinciale di via Gagarin, solo nella giornata di mercoledì, ha messo in campo complessivamente 10 pattuglie effettuando servizi volti a garantire la sicurezza sulle strade del territorio locale I controlli effettuati su più quadranti orari hanno portato gli operatori della Polstrada ad elevare oltre 20 contesti la maggior parte dei quali, circa 15, risultano essere per mancato uso di cinture mentre altri 10 sono da imputare all'uso dei telefoni cellulari alla guida Complessivamente, nella settimana appena trascorsa, sono state riscontrate 933 contravenzioni 1100 i veicoli e 1200 le persone che sono state sottoposte a verifica Tra questi spiccano ben 600 mezzi pesanti, oltre 15 autobus destinati al trasporto persone, 450 autovetture e 35 motocicli I controlli sulle strade del territorio sono stati intensificati inoltre grazie anche alla recente installazione di nuovi tutor autovelox sulla Monte Labattese e sulla strada statale che collega Pesaro a Fano Proprio il tutor della statale, dalla data di attivazione lo scorso 14 agosto fino ai primi giorni di settembre ha permesso di sanzionare ben 705 automobilisti per aver superato il limite di velocità consentito che nel tratto all'ingresso della città di Pesaro arriva a toccare i 30 km orari Sorte poco diversa per i conducenti della Monte Labattese In appena due settimane dall'avvio dei controlli, il nuovo autovelox ha registrato più di 770 infrazioni E la pagina delle segnalazioni di Rossini TV ci porta oggi nel quartiere di Villa San Martino dove un residente di Via Viterbo ci espone alcune problematiche relative alla viabilità e alla circolazione della zona Traffico elevato, limiti non rispettati e soluzioni che mancano I residenti di Villa San Martino lamentano da tempo i disagi creati dalla circolazione stradale in alcune zone del quartiere Nello specifico a intervenire è Danilo Ferri, residente di Via Ettore Viterbo che già da diverso tempo segnala le problematiche della strada La via a senso unico raccoglie un traffico in aumento ormai da diversi anni composto prevalentemente da residenti e lavoratori che la attraversano per recarsi in direzione del quartiere Tombaccia Una sovrabbondanza di mezzi che, oltre a recare disturbo specialmente negli orari serali rappresenta talvolta anche un pericolo Il limite dei 30 km orari raramente viene rispettato e tanti sono i mezzi che si immettono nella via a contromano Velocità e irregolarità del senso di marcia rappresentano un pericolo anche per i più piccoli che spesso si trovano a percorrere la strada in bicicletta Tutto il traffico che porta al rione della Tombaccia e quei quartieri alti là è l'unica strada, senso unico che va verso quei quartieri Quindi le zone industriali di Villa Fastigi, le zone industriali di Talacchio quelli degli interquartieri di là, via Toscana, passano tutti lì Qui non si campa più Qui in estate con le finestre aperte noi non ascoltiamo più la tv Dobbiamo ottenere, non so che livello di volume È una roba incredibile Gente che poi cammina come pazzi, specialmente le moto Qui i bambini vanno a scuola da solo, in compagnia, per mano E poi alla sera giocano in mezzo alla strada con le biciclette E devo dire che sono più controllabili loro perché si controllano l'un per l'altro Mentre le macchine e moto continuano a transitare come vogliono I due segnali dove dicono senso di vieto d'accesso Uno, sono talmente orizzontali che chi viene dalla via Ponchielli non si vede E così altrettanto quelli che vengono dalla via Mercadante Quindi ho chiesto anche al comune Vogliamo metterli più in fuori e farli vedere meglio Questi qua che riescono a vederli e non vengono più contro mano? L'appello esposto dal signor Ferri risulta però inascoltato da anni Per il residente la soluzione più efficace per arginare il problema Sarebbe quella di aprire via Togliatti su via Paganini Misura utile a ridurre la condensa di traffico che si va a creare su via Viterbo Soluzione che migliorerebbe anche la circolazione degli autobus che transitano nella strada E che quotidianamente si trovano in difficoltà per effettuare manovre Gli autobus, lo scompenso ce l'hanno loro nel girare in cima la nostra via Quando trovano macchine parcheggiate che sono al barro o dentro qualcuno qua E loro non riescono a girare Una volta aperta la via Togliatti si potrebbe far finire il passaggio anche degli autobus sulla nostra via E anche loro girerebbero in via Paganini dove c'è la Dibali sul ponte E poi girerebbero a destra nell'apertura che io da tanto tempo chiedo Sempre nel quartiere di Villa San Martino sono tanti residenti che segnalano un'altra problematica Relativa alla totale assenza di illuminazione in via Paganini Un corretto impianto potrebbe contribuire non solo ad una maggiore sicurezza stradale Ma anche ad evitare che nella tarda serata possano avere luogo episodi spiacevoli Tra cui possibili tentativi di furto La pagina degli aggiornamenti relativi all'emergenza Covid-19 Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1519 tamponi 871 nel percorso nuove diagnosi e 648 nel percorso guariti I positivi sono 29 nel percorso nuove diagnosi 10 di questi in provincia di Ascoli-Piceno 8 in provincia di Pesaro-Urbino 7 in provincia di Ancona 1 in provincia di Fermo e 3 fuori regione Questi casi comprendono due rientri dall'estero Gambia e Pakistan Un contatto stretto di casi positivi 3 soggetti sintomatici 11 contatti domestici 6 casi in fase di verifica Un cluster presente in una struttura assistenziale Per un totale di 5 casi positivi E un caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo 5 i ricoverati nel reparto di malattie infettive all'ospedale di Pesaro Mentre scende a 1 il numero di pazienti a livello regionale Che si trova in terapia intensiva Anche questo caso è situato all'ospedale Marche Nord di Pesaro E partirà domani il silenzio elettorale che anticipa le due giornate In cui i marchigiani saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo governatore Nel prossimo servizio Daniele Sacchi ci illustra dove e come si voterà Il 20 e 21 settembre i cittadini della regione Marche sono convocati a votare il loro nuovo governatore Le Marche sono infatti una delle sette regioni chiamate alle urne Per eleggere il proprio consiglio regionale assieme a Campania, Liguria, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d'Aosta Quando si vota si comincia domenica 20 settembre alle 7 di mattina E lo si potrà fare per tutta la giornata fino alle 23 Lunedì 21 settembre sarà ancora possibile votare dalle 7 fino alle 15 Dove si vota? Si voterà soprattutto nelle scuole Nonostante la stessa regione abbia incentivato con contributi straordinari Quei comuni marchigiani che non avrebbero utilizzato i plessi scolastici E invece nella maggior parte dei casi le scuole che riapriranno i battenti lunedì 14 settembre Dovranno richiuderli lunedì successivo per lasciare spazio alle urne Come si vota? La scheda per le regionali sarà di colore arancione anziché del tradizionale colore verde Questo perché sarà di colore verde la scheda elettorale per il referendum costituzionale Sul taglio dei parlamentari per i quali si esprimerà un voto sì o no nella stessa due giorni di tornata elettorale Per le elezioni regionali ogni votante esprimerà la sua preferenza per una delle liste provinciali Tracciando un segno nel relativo rettangolo Si potrà esprimere fino a due preferenze Nel caso di più preferenze espresse queste devono riguardare candidati di sesso diverso Pena l'annullamento della seconda preferenza Se l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale Il voto sarà automaticamente valido anche a favore del candidato presidente collegato alla stessa lista La preferenza al candidato consigliere potrà invece essere espressa Indicando o solo il cognome del candidato oppure cognome e nome Si potrà anche votare soltanto per il candidato presidente senza aggiungere alcun voto di lista E' invece vietato il voto disgiunto Non saranno infatti validi i voti espressi a favore di una lista provinciale E a un candidato presidente non collegato alla lista stessa Per chi si vota non è per Luca Ceriscioli Il mandato del governatore pesarese è agli sgoccioli e lascerà lo spazio a un volto nuovo I candidati a subentrargli sono otto La coalizione di centrosinistra sarà espressa dalla candidatura di Maurizio Mangialardi Quella di centrodestra da Francesco Acquaroli Gianmario Mercorelli è il candidato per il Movimento 5 Stelle Fabio Pasquinelli per il Partito Comunista Alessandra Contigiani per riconquistare l'Italia Roberto Mancini per Dipende da noi Anna Ritaiannetti per Movimento 3V E Sabrina Paola Abanzato per Vox Italia Marche E per la tornata elettorale del 20 e del 21 settembre Non si parla solo di regionali perché i residenti dei comuni di Isola del Piano e di Sant'Angelo Invado Saranno chiamati a eleggere anche il loro primo cittadino Appuntamento importante anche per il municipio di Monteciccardo Vediamo Non solo elezioni regionali La tornata elettorale fissata per domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 Raccoglie diversi appuntamenti per il nostro territorio Oltre all'elezione del nuovo governatore e al referendum sul taglio del numero dei parlamentari In particolare, due comuni della provincia di Pesaro e Urbino Sono chiamati alle urne per scegliere il primo cittadino Ad Isola del Piano, i candidati alla carica di sindaco sono Giuseppe Paolini Già presidente della provincia di Pesaro e Urbino Che in caso di vittoria con la sua lista Isola nel mondo per una crescita locale Conquisterebbe il terzo mandato Opzione possibile per Isola del Piano Visto il numero di votanti poco inferiore a 500 L'altro candidato è invece Giacomo Toccacieli Della lista Adesso noi con Giacomo Toccacieli sindaco Anche i cittadini di Sant'Angelo in vado Con un corpo elettorale poco superiore alle 3600 persone Saranno chiamati a eleggere il nuovo primo cittadino del comune Potendo scegliere tra tre candidati Stefano Parri della lista Patto per Sant'Angelo in vado con Stefano Parri Emanuela Galli con la lista per Sant'Angelo Emanuela Galli E infine Romina Rossi nella lista Leali per vado Romina Rossi Infine anche a Monteciccardo gli appuntamenti elettorali Non si limiteranno a regionali e referendum Le urne saranno aperte anche per eleggere il nuovo consiglio municipale A presentarsi ci sarà la lista civica in comune Monteciccardo Rappresentata da diverse personalità Tra cui alcune che in passato hanno anche amministrato Monteciccardo Per far sì però che le elezioni riguardanti il municipio siano valide È richiesto un quorum del 50% più uno dei votanti Altrimenti sarà commissariato dal comune di Pesaro E lunedì sera su Rossini TV Al termine del nostro telegiornale Quindi intorno alle 20.10 Potrete assistere allo speciale Elezioni Regionali 2020 Una diretta attraverso cui vi informeremo E vi aggiorneremo su tutti i risultati Di questa importante tornata elettorale Che ci porteranno a conoscere il nome del nuovo governatore della regione Seguiteci quindi lunedì 21 settembre A partire dalle 20.10 Per questo importante appuntamento Qui in diretta su Rossini TV Cambiamo pagina ora e ci occupiamo nuovamente di scuola Perché questa mattina abbiamo intervistato la preside dell'Istituto Bramante Genga Anna Gennari Per fare un bilancio di questa prima settimana di lezioni Presentando ciò che ha funzionato e ciò che invece richiede ancora del lavoro Vediamo Direi che è un bilancio complessivamente positivo Innanzitutto perché per gli ingressi abbiamo visto che questa nostra divisione Che abbiamo operato all'interno dell'Istituto Dei tre ingressi con la possibilità per i ragazzi Di avere la misurazione della temperatura con i termoscanner Sta funzionando e tra l'altro i ragazzi proprio stanno migliorando di giorno in giorno Anche nel così approcciarsi a questi strumenti Che il primo giorno magari così vedevano anche con un po' di novità E quindi anche in maniera alcuni un pochino più imbarazzati Per quanto riguarda le uscite Altrettanto direi che le cose funzionano Noi abbiamo scandito l'uscita su due turni Quindi c'è un primo turno in cui i ragazzi Dei piani bassi, del piano terra eccetera Di certe aule ben indicate escono E poi escono le altre classi Quindi ci sono due campanelle A distanza di tre minuti l'una dall'altra Quello che invece stiamo rivedendo è il momento dell'intervallo Perché l'intervallo sicuramente anche per gli spazi che non ci sono Perché ci sono dei corridoi ad esempio Nella parte nel primo piano Sono corridoi piuttosto ampi come voi potete vedere Ma nella parte alta i corridoi sono molto stretti E quindi si crea questo desiderio anche da parte dei ragazzi Di vedere i compagni delle altre classi eccetera Allora abbiamo proprio visionato proprio ieri Insieme al docente che mi sta aiutando In tutta questa organizzazione che non è semplice Vedere un po' quelli che sono i percorsi Per portare i ragazzi alternativamente Al primo intervallo e al secondo E a seconda dei settori Per portarli fuori Noi abbiamo circa 850 studenti Noi fin dal primo giorno abbiamo dato la possibilità a tutti di venire a scuola E sinceramente abbiamo avuto nove assenti il primo giorno di scuola Tra l'altro alcuni ecco per Con assenze diciamo già preannunciate Perché erano fuori per motivi sportivi Quindi di fatto ci siamo messi subito alla prova con i nostri numeri Ecco e ora abbiamo anche la possibilità per i ragazzi E già ci siamo attivati Di collegarci comunque Anche se ci fosse un solo alunno assente Che ha chiesto tra l'altro di fare didattica Diciamo digitale Noi ci stiamo collegando I docenti stanno collegando E quindi i ragazzi seguono regolarmente le lezioni da casa Dovessimo trovare ragazzi con la febbre a scuola Ecco è chiaro che noi dobbiamo contattare la famiglia La famiglia poi a sua volta si metterà in contatto col proprio medico E a quel punto è il medico che decide se Ci può essere un caso sospetto E quindi attivare tutta la procedura Che poi ci è stata data Oppure appunto semplicemente Come in questo periodo può capitare Una semplice banale Così rialzo della temperatura corporea Per tanti altri motivi Certo quello che noi ci raccomandiamo E io l'ho fatto proprio personalmente in ogni classe È quello di dire ai ragazzi Che i comportamenti che stanno tenendo dentro la scuola E direi che è chiaro che c'è sempre qualcuno Che bisogna richiamare, riprendere Però devo dire complessivamente bene Ecco è chiaro che questi comportamenti Loro non devono poi dimenticarseli completamente Nel momento che escono da scuola Quindi attenzione ragazzi Responsabilità e coerenza Sono due parole chiave quest'anno Ancora notizie perché nel cantiere dell'ex Casa Ciabotti Lungo Viale dei Partigiani Dove ora si lavora per erigere un nuovo complesso residenziale Sono stati effettuati dei controlli da parte della sovrintendenza Per verificare in via precauzionale La presenza o l'assenza di possibili resti archeologici In un'area dove già precedentemente erano stati rinvenuti altri ritrovamenti Ad oggi però non risulta pervenuta alcuna scoperta interessante La ditta di costruzioni rimane quindi aperta ad eventuali sviluppi Comunicati dalla sovrintendenza Ma nel frattempo i lavori continuano Sabato 19 settembre dalle 18.55 Si terrà il primo di cinque appuntamenti con Carlo Pagnini I suoi racconti, le sue poesie, i suoi personaggi e i suoi amici Il titolo della serie di incontri, tipi da museum, intende rendere omaggio Alla denominazione dell'hotel Alexander che ospiterà i vari eventi La partecipazione è gratuita e l'accesso è libero Ma per il rispetto delle norme anti-contagio i posti sono limitati E questa mattina Piazza del Popolo ha ospitato 24 auto d'epoca Per il Classic Tour, trasferta di tre giorni in terra marchigiana Dei soci del Collector's Historic Car Club di Cesena Vediamo le interviste ai protagonisti Io molto sono innamorato oltretutto delle marche E sono venuto qui proprio con il piacere di venire a Peso Peso è una città ospitale Ho visto che c'è stato anche da parte dell'amministrazione Un'accoglienza giusta Quindi questo ha dato il risultato Solo che purtroppo non abbiamo avuto la resa come di solito Di un numero più elevato di macchine Perché la situazione sanitaria adesso per alcuni impedisce gli spostamenti Però è una carovana che abbiamo piacere comunque di averla fatta Questa era nata come manifestazione per marzo Quando è scoppiato il problema del virus E si chiamava carovana di primavera E abbiamo quindi abbandonato Di solito noi a settembre facciamo una manifestazione Che si chiama Classic Tour Che dura sei giorni L'anno scorso siamo andati in Slovenia Quest'anno che eravamo nella situazione O di saltare Classic Tour o di fare una cosa piccola Abbiamo pensato di rifare quello che era Il carovana di primavera Riportarla con il nome di Classic Tour E che è la durata di tre giorni È un piacere vedere tutte queste macchine Che rendono Piazza del Popolo più gioiosa sicuramente Tanto qui viene di tutto In questo caso direi che la bellezza ha un tasso più elevato del solito Ci sono dei modelli veramente interessanti Le macchine d'epoca sono tutte belle naturalmente Però ce ne sono alcune che hanno una marcia in più Non necessariamente meccanica C'è la Lancia Aurelia B24 La stessa del film Il sorpasso Indimenticabile Poi c'è la Lancia Aurelia B20 Ci sono delle Mercedes 190 Cioè macchine che hanno fatto la storia Veramente la storia dell'automobilismo Ed è stato un piacere dare una mano Ad Alberto Ghini Presidente del club di Cesena Che ha scelto Pesaro come prima tappa di due ore Prima di proseguire per Marotta Senigallia E poi passare agli altri due giorni nella provincia di Fermo E quindi come pesarese E come appassionato di autodepoca Sono stato ben felice di dare una mano Per collaborare dal punto di vista logistico E burocratico Diciamo così Per aiutare Invece di farlo avrini da Cesena Occupandomene io per alcuni aspetti E quindi ho trovato molta collaborazione E poi a proposito di collaborazione Dobbiamo ringraziare anche la protezione civile Che ci garantisce con un paio di volontari Il non assembramento E questa era davvero l'ultima notizia Per questa edizione del nostro telegiornale Ma rimanete con noi anche questa sera Perché alle 21.15 Andrà in onda un programma di approfondimento A cura di Estra Dove si parlerà di super bonus Sulle energie rinnovabili In onda questa sera In prima serata Alle 21.15 E in replica alle 22.30 Subito a seguire alle 21.30 Uno speciale dedicato alla scoperta Del bianchello del metauro Nella cornice del brodetto Fest di Fano In onda alle 21.30 E poi in replica alle 22.45 Se vi siete persi poi La prima edizione del Vallefoglia Magazine Nuova edizione condotta da Andrea Sabatini Che è andata in onda alle 19 La potrete rivedere sempre questa sera Alle 23.00 E poi nelle varie repliche di sabato Domenica, lunedì e martedì L'informazione di Rossini TV Poi continua anche domani mattina Con una nuova edizione Della nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini In diretta puntuale alle 7.20 Sarà condotta da Antonio Astuti E vi ricordiamo ancora poi L'informazione della prossima settimana In diretta alle 20.10 circa Su Rossini TV Subito dopo il nostro telegiornale Lo speciale Elezioni Regionali 2020 Una diretta attraverso cui vi aggiorneremo Su tutti i risultati Che ci porteranno a conoscere Il nuovo governatore della Regione Marche Rimanete quindi su Rossini TV Per tutti gli appuntamenti di questa sera E intanto vi ringrazio per averci seguito In questa edizione del nostro telegiornale